nel caminetto ardeva un gran fuoco sulla tavola giapponese due tazze da tè una di fronte all'altra affiancate da una teiera fumante vicina alla zuccheriera e alla caraffina del rum il conte de saliù buttò su una sedia cappello guanti e pelliccia mentre la contessa dopo essersi tolto il mantello da sera si ravviava i capelli alla specchiera faceva un grazioso sorriso a se stessa mentre giocherellava coi ricciolini alle tempie muovendo la punta delle dita fini e luccicanti di anelli poi si volse verso il marito che da qualche istante la stava guardando e sembrava esitare quasi contrariato da un pensiero segreto finalmente lui disse siete abbastanza corteggiata stasera lo credo bene e infatti io facevo una figura quasi ridicola che cos'è una scenata volete farmi dei rimproveri no cara amica dico solamente che quel signor burrell è stato quasi sconveniente con voi se se avessi avuto dei diritti mi sarei sentito offeso siate sincero amico mio oggi pensate diversamente da un anno fa quando ho saputo che avevate un amante un amante di cui eravate innamorato proprio non facevate caso se ci fosse o no un uomo a farmi la corte vi dissi il mio dolore vi dissi proprio come avete fatto voi questa sera ma forse con maggior ragione caro voi compromettete la signora ad esservi mi fate dispiacere e mi coprite di ridicolo che cosa mi avete risposto allora mi avete fatto capire con chiarezza che ero libera che il matrimonio tra persone intelligenti è soltanto un'associazione di interessi un legame sociale ma non morale è vero o no ma avete fatto capire che la vostra amante era infinitamente meglio di me più seducente più femmina avete detto più femmina tutto questo naturalmente in mezzo ai soliti complimenti di una persona bene educata espresso con tante attenzioni riguardose e con una delicatezza a cui minchino comunque allora capì benissimo siamo rimasti d'accordo che da quel momento in poi avremmo vissuto insieme ma completamente separati nostro figlio avrebbe rappresentato l'unico legame tra noi mi avete quasi fatto capire che volevate salvare unicamente le apparenze e che se volevo se mi fosse piaciuto avrei potuto avere un amante a fatto che la relazione rimanesse segreta avete fatto una lunga e ben consegnata predica sulla perspicacia delle donne sulla loro abilità nel rispettare le convenienze e via di questo passo amico mio io ho capito ho capito benissimo allora eravate molto innamorato della signora de Servi e il mio affetto legittimo e legale vi dava fastidio sicuramente avvero di ostacolo nelle vostre manovre da allora in poi abbiamo vissuto da separati andiamo insieme in società e facciamo ritorno a casa insieme poi ognuno se ne va per conto suo e adesso da un mese o due vi siete messo a far la parte del marito geloso che significa amica mia io non sono per niente geloso ma ho il timore che vi possiate compromettere siete giovane vivace amate l'avventura un momento se volete parlare di avventure facciamo il confronto tra noi non scherzate per piacere vi parlo da amico da amico che ha buon senso quanto avete detto signora è molto esagerato ah no voi avete parlato per primo confessandomi la vostra relazione e cioè dandomi il permesso di fare come voi e io non l'ho fatto permettete lasciatemi parlare non l'ho fatto non ho un amante non ne ho avuti sinora sono in attesa cerco ma non ho ancora trovato vorrei una persona per bene uno migliore di voi vedete vi faccio un complimento e voi neppure ve ne accorgete mia cara tutti questi scherzi sono completamente fuori luogo e invece io non sto affatto scherzando mi parlaste del diciottesimo secolo mi faceste capire di avere i gusti del periodo della reggenza non ho dimenticato niente il giorno in cui mi farà comodo non essere più quella che sono ora per quanto possiate fare statemi bene a sentire senza neanche accorcervi neanche voi sarete cornuto come tanti altri ma come potete dire parole simili parole simili? ma se vi siete tanto divertito quando la signora de Gers disse che de Servi sembrava un cornuto alla ricerca delle sue corna quello che può parere divertente sulle labbra della signora de Gers non è adatto alle vostre non è vero se la parola cornuto vi fa ridere quando viene applicata al signor de Servi non deve dispiacervi quando viene riferita a voi è questione di punti di vista d'altra parte io non tengo a usare quella parola l'ho pronunciata soltanto per vedere se eravate maturo maturo? per cosa? è per diventarlo quando un uomo si urta se qualcuno usa quella parola vuol dire che ha la coda di paglia fra qualche mese sarete pronto a ridere se parlerò di quegli ornamenti perché sì quando uno è così ci si ride sopra stasera siete proprio impertinente non vi ho mai veduta così certo sono cambiata in peggio colpa vostra basta cara ora facciamo un discorso serio io vi prego vi supplico di non incoraggiare come avete fatto questa sera le inconvenienti galanterie del signor Burel che dicevo siete geloso no niente affatto è solo che non voglio apparire ridicolo e se vedrò ancora quel signore parlarvi sulle spalle o piuttosto sui seni si vede che cercava un megafono gli tirerò le orecchie non vi sarete innamorato di me anche una donna meno bella di voi potrebbe dirlo ma guarda un po' la verità però è che io non sono più innamorata di voi smettetela con questi scherzi siamo separati è finito tutto su non vi arrabbiate vi trovo deliziosa da qualche tempo si vede che sono migliorata e che anche voi mi giudicate matura deliziosa cara avete ora due braccia un incarnato e le spalle che piacciono tanto al signor Burel come siete cattiva è vero non conosco nessun'altra donna seducente come voi siete a digiuno come? ho detto siete a digiuno che vuol dire? vuol dire che quando uno non ha mangiato e ha fame si persuade a ingoiare piatti che in altra occasione avrebbe trascurato io sono la pietanza trascurata in un primo momento e che stanotte vi piacerebbe mettere sotto i denti margherite chi vi ha insegnato a parlare in questo modo? voi proprio voi statemi a sentire dopo la rottura con la signora di Servy avete avuto per quanto ne so almeno quattro amanti sgualdrine questa volta ballerine e roba del genere e perciò come volete che spieghi se non con un momentaneo digiuno le vostre velleità di stasera sarò sincero brutalmente sincero senza mezzi termini mi sono innamorato un'altra volta di voi veramente innamorato pazzo ecco guarda guarda e così vorreste ricominciare sì signora stanotte oh margherite bene così vi siete offeso un'altra volta mio caro intendiamoci fra noi non c'è più niente vero sono vostra moglie d'accordo ma una moglie libera stavo per impegnarmi con un altro voi mi chiedete il riguardo di darvi la precedenza ve la darò ma allo stesso prezzo non capisco mi spiego valgo almeno quanto le vostre sgualdrine siate sincero mille volte di più anche più della migliore mille volte allora ditemi quanto avè costata la migliore in tre mesi non vi capisco più voglio dire quanto avè costata in tre mesi la più bella delle vostre amanti fra denaro gioielli pranzi cene teatri e via dicendo insomma il mantenimento completo e che ne so male dovreste saperlo facciamo un prezzo medio modesto 5.000 franchi al mese ci siamo o no eh sì più o meno e allora amico mio datemi subito 5.000 franchi e sarà vostra per un mese a partire da stanotte siete matta la prendete su questo tono buonasera che buon odore davvero è il solito ho sempre usato pelle di spagna strano comunque è eccellente può darsi adesso fatemi la cortesia di andarvene perché vorrei andare a letto margherite andatevene ah sì peggio per voi non avvicinatevi o mi arrabbio sul serio che stupido modo di comportarsi può darsi però conoscete la tariffa 5.000 franchi ma è un'idiozia perché come perché un marito dovrebbe pagare per andare a letto con sua moglie che brutte parole d'accordo ma ripeto che è da stupidi pagare la propria moglie la propria moglie legittima ma è ancora più da stupidi quando si ha una moglie legittima pagare le squadrine sarà ma non voglio coprirmi di ridicolo che strana idea vi è venuta in mente quale idea quella di chiedermi 5.000 franchi è una cosa naturale siamo o non siamo due estranei voi mi desiderate ma non potete sposarmi perché siamo già sposati perciò non vi rimane che comperarmi a un prezzo inferiore alle altre riflettete questo denaro invece di finire fra le mani di una donnaccia qualsiasi che se ne farebbe chissà cosa resta in casa in famiglia e poi cosa c'è di più spassoso e di più originale per un uomo intelligente che pagarsi la propria moglie gli amori illegittimi voi li apprezzate di più quando li pagate cari carissimi adesso voi date al nostro amore legittimo un nuovo valore il gusto del vizio un fascino inaspettato e licenzioso riconoscendogli una tariffa come per un amore prezzolato non siete d'accordo e ora signore andate via oppure chiamo la cameriera canaglia prendili sono 6.000 ma bada bada che cosa non ti ci abituare 5.000 al mese caro signore altrimenti vi rispedisco dalle vostre sbaldrine e se resterete soddisfatto vi chiederò l'aumento